Se è giusta, vi faccio un rumore che non è un rumore che osceno. Che cos'è? Un sciacquone. No. La cascata. No. La pipì. Non è la pipì. Cos'è? La doccia. La pioggia. La pioggia. Piove. Non ci sono il cuore. Se voi pensate che piove. Non ci sono i tuori. Ma io inizio a dire grande le cose. Io abbiamo potesso. Pioveva tanto forte. Diciamo che piove. Io è primo tempo. È un bel libro. Abbiamo già visto questa cena. Già fatto? Miau. 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 Che? Miau. 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 Grazie a tutti. Grazie.